Poi quando fai, quando era l'ora, ci alzerà e mi conto che lavoro tutti. mi disse se bene in cui chiunque esso sia, chiunque, caccialo fuori, non ti permettere la mano di scontrollare, qualunque per il giudicato, qualunque. Tu concedi un pezzo, non per, parliamo di piano, non sempre per benevolenza, molte volte anche perché si fa comodo. Stai parlando con gente ignorante, quando tu riesci a mettere a punto una strategia e a guadagnarci pure, si, ma se ti arriva gente strana a mare, alle due di notte, ti chiami. E' sempre un compromesso. Questo non significa che non hai il controllo, significa che la mano lavora l'altro, più che la mano lavora l'altro. Questi elementi sono elementi del mondo.